Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la vita! This is the voice of your night. Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM. Let's begin, let's begin. Sta arrivando dalle nostre parti Paolo Roberto che è l'uomo accoglienza degli ospiti di By Night Roma. Ci sono, ci sono, ci sono. Preparatissimo come sempre, abbiamo qui un nuovo talento della Notte Romana di By Night Roma. Lei è Francesca Trissati. Grazie. Intanto ti diamo il benvenuto Francesca, benvenuta da noi. Buonanotte, anzi buongiorno. Buonanotte, buongiorno, in battimento di vista. Canterà una canzone, la canzone si chiama... Mille Pensieri ed è un inedito, è un brano mio. Tu hai un gruppo, perché l'unica cosa che mi sono perso è questa. Qual è il nome del gruppo? Si chiamano Fragments of a Dream. Fragments? Of a Dream, in italiano Frammenti di un sogno. Perfetto, sì, questo l'avevo capito. Un inedito in diretta su By Night Roma, talento della Notte Romana alle 2.52, By Night Roma, mi raccomando, ripetiamo il nome? Francesca Trissati. Ok, perfetto. Radio Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della Notte Romana. Oh! La sentiamo. Yes. In questo momento di assordante silenzio, l'unico contatto che ho con la realtà è il frammito incessante di questo orologio. Suona dentro di me un'odiosa melodia. Mille pentieri si sovrappongono come uno scatto immortale a un istante. Vorrei, vorrei porre un freno a quest'inquietudine che scava dentro. Troppo, ma ombre e immagini scomposte si affollano in me, come scheletri che danzano nella notte. Non sai quanto il desiderio di appurare questa verità mi spaventi. C'è già troppo di te che riempie il mio corpo, io non posso più mandarlo via. Mille pensieri si sovrappongono come uno scatto immortale a un istante. E' una forma di soddisfazione. Mille pensieri si sovrappongono come uno scatto immortale a un istante.